Sono 244 in Campania e nuovi casi positivi al Covid su 6.929 tamponi molecolari esaminati. L'indice di contagio è salito al 3,52% rispetto al 3,9% precedente. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania non si sono registrati decessi. Un decesso avvenuto nei giorni scorsi è stato registrato ieri. Cala negli ospedali il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, che sono 10. In provincia di Salerno salgono a 44 i nuovi positivi al Covid-19. La città più colpita è stata Ponte Cagnano-Faiano, con 9 casi. Invece a Salerno si sono registrate scene di giovani che ballano nella notte tra sabato e domenica, video che sono diventati virali e che mostrano di un max assembramento di giovanissimi all'interno di uno dei luoghi culto del by-night salernitano. Erano giunti sulla costa sud per un concerto che con il passare delle ore si è trasformato in un'autentica serata danzante, riportando alla prerogativa originaria e locale conosciuto anche fuori dalle mura della Regione Campania. Registrazioni che hanno fatto il giro dello web, arrivando alla ribalta nazionale con un post social di Selvaggio, Rucarelli. Ieri pomeriggio anche l'hub vaccinale Bolitano si sono verificati attimi di assembramento, ma non per colpa degli organizzatori, ma per la gente che in alcuni casi non ha rispettato le file ed il distanziamento. In tutto questo l'impegno delle forze dell'ordine è costante, infatti i dati forniti dalla questura dimostrano come i controlli in settimana sono cospicui. Infatti sono 7.149 le persone controllate, 4.237 veicoli, 971 esercizi pubblici, tre esercizi pubblici, un distributore automatico di bevanti e sanzionati per aver violato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito.